Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta salata specche e carciofi. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono una dose di pasta brisè, olio evo, specche tagliata a listerelle, cuori di carciofo tagliati a spicchi, vino bianco, ricotta, uova, sale, pepe, noce moscata, aglio e parmigiano grattugiato. Andiamo il via alla ricetta. Mettiamo momentaneamente da parte la pasta brisè. Mettere nel boccale l'aglio e l'olio. Ed azionare il bimbi per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale. Aggiungere lo speck e fare insaporire per un minuto 100 gradi antiorario, velocità 1. Aggiungere i carciofi e cuocere per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungere il vino bianco e sfumare per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. trasferire in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettere la ricotta, le uova, la noce moscata, il pepe, il sale, il parmigiano. Ed azionare il bimbi per 15 secondi a velocità 4. Versare il composto nella ciotola con i carciofi. amalgamare bene. Buquerellare il fondo della pasta di brisè con i rebbi di una forchetta e versare il composto di carciofi. livellare bene. Decorare con due cuori di carciofo e chiudere bene i bordi. cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 25-30 minuti. la torta è cotta. Lasciamola intiepidire prima di servire. torta salata specche e carciofi. Grazie e alla prossima ricetta. e alla prossima ricetta.